Qua Dominic ragazzi Bello Wow L'emisterio Salve carissimi io sono Nick Radogna Eccoci qua siamo ritornati a Los Angeles Vedete un po' quante persone che stanno Oggi ci stiamo recando a Monday Nitro Precisamente la puntata dirò Dopo Cosa Almenia Oh Say hi to Italy Say hi to Italy Viva Italia Yeah Incredible incredible Quindi ci saranno grandi sorprese Adesso scendiamo le scale Voi mettete un bel like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Seguitemi su Instagram E mo aspetta non fatemi cadere Ma andiamo direttamente in arena Però se volete mangiatevi Los Angeles L'ultima volta che l'ho mangiato io ho preso tre malattie Ed eccoci qua Controlli della sicurezza Fatti adesso guardate quante persone Anche a sto giro andrò al terzanello Però un'occhiata al primo Io gliela darei E quindi andiamo Entriamo da qua Vediamo come il ring Sono abbastanza curioso Questa sarà una super puntata Ed eccoci qui Ecco il ring di Monday Night Raw Ecco qua il tavolo di commento Ecco qui il ring E poi ovviamente andiamo verso la parte in cui le superstar entreranno Quindi ci accomodiamo e aspettiamo con calma l'inizio della puntata post-wrestlemania Wow Aspettiamo l'inizio Ci siamo E inizia Ufficialmente Monday Night Raw Vediamo chi entra Tanta roba tanta roba eccolo qua Welcome to Monday Night Raw Uè Uè La serie A Sta entrando Roman Reigns ragazzi Ruben Reigns E va bene Abbracciamoci E va bene Coddy 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 Roben Reigns Roben Reigns Roben Reigns Acknowledge me Coddy Coddy I dream of it In my soul Selfie self in Coddy Coddy Codi eh Codi è Brock Lesnar Non ci credo Suplex City Suplex City Sicuramente come fine puntata Ci sarà questo match Brock Lesnar è fuori contro Roma Rennes Solo Sicoa Quindi adesso si procede con la puntata This is awesome Ok, bene One, two, three Un match che è durato meno di una scorreggia A posto, avanti il prossimo Ragazzi c'è Bad Bunny, incredibile HIA LA, Los Angeles, Keroke Grande Bad Bunny, tanta roba ragazzi Sì, ci vediamo là proprio Oh my god Oh my god C'è di misterio Ragazzi c'è di misterio Rey, misterio Idolo, idolo Adol, idol Adol, idol Adol, idol Adol, idol Bujaka, bujaka S'è qua na Bujaka, bujaka Grandissimo Rey, ti amo Rey, ti amo, ti amo Rey, ti amo Rey, ti amo Austin Theory Il campione degli Stati Uniti Me and you deserve a little bit of respect You didn't believe in me I'm the damn champ Oddio Ragazzi Un match in corso Rey, misterio Contro, Austin Theory Yeah No 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 Wow Ancio Niente Messo all'angolo Lanciate sull'altro angolo Bello Tanta roba Tanta roba Ha reagito bene Ha reagito bene Wow Wow L'emisterio Two Che vuole combinare Bello Un bel kick Oh Oh Six one nine Ragazzi La six one nine No One One Two Niente Risposta di Theory Bello Dominic 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 è il figlio sexo no gliel'ha presa gliel'ha presa no 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 8 on down 8 on down 1 2 e 3 vince il team no il figlio di re che continua a picchiare il padre insieme a Damian Priest che gli fa da sicurezza gli fa da bodyguard e Austin Theory se ne va no oddio Damian Priest bello 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 oh Bad Bunny scaraventato sul tavolo da Damian Priest il figlio va pure vicino ecco lo sta menando boom 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 e se ne vanno se ne vanno e qui Bad Bunny viene aiutato da Remisirio finora ragazzi una puntata magnifica vediamo com'è proseguirà ragazzi abbiamo Kevin Owens con i titoli di coppia ed ecco lo seleziono eccoli dai dai gli straight profits ottimo ottimo i picchieri hanno volato bello bello mossa di coppia bravo Kevin bravo Kevin un'altra oddio ci siamo schiaffone oddio sta per farlo sta per farlo sta per farlo che sta succedendo oh one two niente mamma mia sta per succedere sta per succedere no no madonna oh 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 qua giù è ceso raggio di Kevin oddio vai siamo pronti siamo pronti siamo pronti e adesso sappiamo tutti cosa succede faccio zoom out perché so già cosa succede vai oh e no per fortuna non gli va c'è un tag c'è una stunner lo spinge all'angolo ring corsetta e poi è l'uva kick one two e tre baby mezzo della madonna bellissima oh sta entrando Seth Robinson ragazzi oh che ru della madonna meglio di essere bellissima oh 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 linda praticamente abbiamo cantato la canzone e se ne è andato e tra poco sta per entrare Bianca Belair la campionessa di Raw ecco la qua ragazzi Bianca Belair la campionessa di WWE è ancora la campionessa di Raw Women's Champion insieme a Bianca Belair sta arrivando anche lì a Ripley, la campionessa di SmackDown oh cavolo oh cavolo oh cavolo eccola ma che la vuole sfidare ma che la vuole sfidare si vogliono sfidare eh si vogliono sfidare eh è giusto è giusto ok 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 perfetto hanno praticamente fatto un saluto e adesso se ne vanno vabbè dai aspettiamo il main event è tornato a mettere idolo ragazzi è tornato a mettere idolo è tornato il mio idolo a mettere idolo bravo bravo vai menalo oh oh se non ci credo non ci credo bro Derek oh se bro 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 e ci siamo ragazzi ci sta per iniziare il main event Romarenza solo si può accontro però mi deve stare un po' di roccia eccolo 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 e 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 il backstage dove stanno tutti i pullman vediamo se esce qualcuno ragazzi sta Becky Lynch nel pullman eccola qua ragazzi c'è Liv Morgan qua Dominic ragazzi bene carissimi il video di oggi termina qui qua hanno acceso le luci stanno smontando anche il ring è stata una puntata dirò veramente bella mi dispiace un botto ovviamente per il finale perché io sono un fan di Cody pazienza vedremo cosa accadrà successivamente nelle prossime puntate e quindi se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un bel like iscrivetevi al canale attivando la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video ciao carissimi